A Lauron di Pescara, seconda edizione del concerto Lezione, organizzato dall'Assessorato alla Cultura per avvicinare i giovani alla musica originale e creativa. Dopo l'esibizione del chitarrista e compositore Gianfranco Continenza, del bassista Angelo Cipollone e del batterista Oreste Sbarra, i musicisti si sono confrontati con gli studenti, tecniche compositive, improvvisazione, armonia e arrangiamento, le sessioni fino al ruolo degli strumenti nelle diverse formazioni musicali. Grazie a tutti.